Indagine sulle coperture, dunque, è tutt'altro che conclusa Palermo, nuovo vertice tra gli inquirenti. Andiamo in diretta da Ieri Pilati. Sul fronte investigativo la notizia più rilevante è naturalmente quella della scoperta della casa di Messina Denaro e tutto ciò che potrebbe comportare l'analisi della documentazione scoperta lì per arrivare ad altri luoghi, altri fiancheggiatori oltre a quelli già sospettati. Ma ogni fatto eclatante come questo in termini criminali comporta delle conseguenze. Il boss aveva contatti con altre organizzazioni e il suo arresto comporterà evidentemente degli smottamenti e una riorganizzazione. Sono i momenti in cui gli investigatori, in particolare chi lavora ad ascoltare letteralmente le reazioni dei mafiosi, lavora senza tregua, anche in altre zone d'Italia. Infatti qui è stato fino a poco fa anche il capo della procura nazionale antimafia che ha un ruolo di coordinamento tra tutte le direzioni distrettuali del paese. Il nostro racconto però parte dal colonnello che ieri materialmente ha riconosciuto Matteo Messina Denaro. Intanto l'ho riconosciuto, l'ho riconosciuto in maniera chiara. Le uniche immagini che aveva in testa di lui però erano l'identikit e delle vecchie foto. Sì, assolutamente sì. Ma noi sapevamo benissimo che non si trattava di Buonafede Andrea. Buonafede Andrea era a Campobello di Mazzara e ovviamente non poteva essere lui. È lui il colonnello che al boss latitante ha fatto pronunciare, forse per la prima volta da anni, il proprio vero nome. L'ho detto, l'ho detto, Matteo Messina Denaro. Le urla dei carabinieri al momento dell'arresto, la gioia per il risultato. Gli agenti del Roscol Passamontagna, lui in borghese, ha volto scoperto. Non sono io venire a nascondere, i miei uomini invece devono farlo. In qualche modo neppure Messina Denaro si nascondeva del tutto, non ne aveva bisogno. C'è il tema dell'omertà anche questa volta. Un soggetto tutto sommato riconoscibile che girava per Campobello liberamente indisturbato aveva un alto rischio di essere riconosciuto. Di fatto nessuno l'ha mai riconosciuto. Qualcuno ha detto che il male è banale, quindi abbiamo visto un uomo normale con delle passioni. Cancellare il male non è possibile, ma almeno gli stragisti del 92-93 sono in carcere. Ne mancava solo uno, appunto Matteo Messina Denaro, da ieri non è più così. Ora bisogna chiedersi cosa succederà a Cosa Nostra. Un risultato importante, a lungo atteso. Ci saranno sicuramente conseguenze da valutare sull'evoluzione delle dinamiche di Cosa Nostra. Messina Denaro verso il carcere di massima sicurezza, forse la sua ultima destinazione.